E' stata la prima proposta di un nuovo percorso, di una nuova vita, un lavoro diverso da quello che è il solito set da shooting di moda e quindi l'ho sposato tra virgolette subito con grande passione. Ho avuto la fortuna di lavorare in questi giorni con persone che in un secondo plasmando con le mani veramente dei grandi artisti, ecco li definirei dei grandi artisti. Quanti pavolcini abbiamo usato? Claudio? 14.000! La paletta di Gemar fa concorrenza a qualsiasi tessutaio del mondo perché è fantastico. E l'abbiamo mescolata come se fosse una paletta di un pittore, di un artista, abbiamo lavorato veramente con un pennello affinché venisse fuori un quadro perfetto. Così è perfetto. Nel calendario Gemar raccontiamo sempre forme e colori, però quest'anno c'è qualcosa di più. il calendario di quest'anno è stata una sfida creativa fantastica. E' incredibile combattere questi due universi, uno e l'unico. E' la prima volta che faccio un set così. E' molto divertente ed diverso rispetto ad altri lavori. Il calendario Gemar e Giattacurti sono in piccola città in central Italia, ma siamo tutti i nostri vittori. Abbiamo condividito la passione per il dettaglio e tutto questo è bello. Beauty in all its form. Il calendario Gemar era la perfetta opportunità di giocare con colori, fabrile, tecniche, per creare qualcosa di straordinario, qualcosa di divertente. e il tempo è perfetto, perché vogliamo cominciare il nuovo anno celebrando la bellezza, la bellezza della vita, bellezza, bellezza della vita. Grazie a tutti.